Ecco la nuova edizione della mostra Gli altri siamo noi, edizione 2019 di Roma, curata dalla Caritas di Roma e da Tamburi di Pace, con il supporto di volontari, docenti e mediatori interculturali. Si tratta di un percorso di idee, giochi e strumenti, rivolto ai ragazzi dai 10 anni fino ai 17, ma anche a tutti gli adulti, per riflettere insieme sui meccanismi del pregiudizio, del capo espiatorio e della discriminazione. Questa mostra gira dal 1995, ha visitato più di 120 città, coinvolgendo 200.000 studenti. È uno strumento straordinario per la longevità, che resta però innovativa e attuale, per la metodologia che è ispirata alla pedagogia dell'educazione, alla pace e alla non violenza. Un impegno è uno strumento continuo e costante, che si pone proprio all'obiettivo di sostenere il lavoro di ogni giorno di chi ha scelto il compito di insegnante ed educatore.